Ciao, sono Manuela Lavezzari, sono il mio marketing director per Lenovo e oggi ci troviamo qui a IFA e vi vorrei parlare di un progetto di cui sono particolarmente orgogliosa. Si tratta della collaborazione con IED. Abbiamo lavorato con IED negli ultimi mesi proprio per portarvi e presentarvi oggi un nuovo prodotto che è lo Yoga Glass 920 Vibes, quindi abbiamo chiesto ai ragazzi dallo IED, 130 hanno submittato la nostra richiesta ma solo 16 hanno poi partecipato al corso e abbiamo chiesto loro di proporre, di presentare e di essere molto creativi per far sì che ci presentassero tantissime proposte diverse e questo era il risultato. Questo è il ragazzo che ha vinto, è un ragazzo giovanissimo di 21 anni e questo è Vibes. Attraverso questo design lui partendo dal punto che è l'inizio di qualsiasi cosa sia a livello geometrico ma anche a livello di natura si possono creare delle cose bellissime e lui attraverso questa onda ha voluto creare una vibrazione visiva e ha voluto creare un link con quello che è il prodotto, le performance del prodotto. Ma non è solo il prodotto che abbiamo voluto portare qui all'IFA, qui ne potete vedere molti altri e sono i finalisti ma vi assicuro che ce ne sono veramente tantissimi e purtroppo oggi non potevamo esporli tutti e sono uno più bello dell'altro. Questo prodotto è la dimostrazione di cosa possa essere la collaborazione tra una grande azienda come Lenovo e una scuola di design. Abbiamo voluto rivolgerci a una scuola di design anche per dare l'opportunità ai giovani di oggi di provare a lavorare e confrontarsi con le grandi aziende quindi dare loro l'opportunità di esprimersi e di confrontarsi con il mondo del lavoro capendo quali siano le logiche, le tempistiche e le richieste di una grande azienda e siamo veramente contenti perché hanno risposto in modo molto molto positivo, hanno capito subito qual era la motivazione che c'era dalla nostra azienda e il nostro impegno e hanno risposto con altrettanta passione. Quindi spero e credo che questo sarà l'inizio di una grande collaborazione e questo penso che sarà un successo.